Al Cinema Odeon di Firenze ospite il regista israeliano Ari Folman, un regista noto al grande pubblico per il suo film Valtzer con Bashir, che è stato vincitore dei Golden Globe ed è stato nominato nei principali festival internazionali. Qui a Firenze presenta il suo film The Congress, un film ispirato al romanzo di Stanislaw Lem, il congresso di futurologia. Si tratta di un film in cui si parla di un'attrice, Robin Wright, ormai arrivata un po' alla fine della sua carriera, che decide di cedere i diritti della propria immagine ad uno studio che potrà utilizzarla, la sua immagine appunto, a suo piacimento. Da qui nasceranno tutta una serie di situazioni che alternano live action e animazione. Un film molto particolare che ha aperto la Kenzende realizzata a Cannes quest'anno ed è presentato in anteprima appunto all'Odeon di Firenze dal Festival Trasparenze in Tascani. Ospitato a Firenze grazie alla collaborazione con Fondazione Sistema Toscana e che si terrà fino al 16 giugno in tre location a Firenze, a San Casciano dei Bagni e Orbetello. Sentiamo adesso che cosa ha detto il regista Ari Folman. Il suo film vuole essere una metafora della società attuale, di questa presenza invasiva dei media? Sì, è vero, è un po' una metafora, ma in realtà è anche una dichiarazione, cioè un tentativo di non categorizzare i film, cioè di non stare sempre a decidere fin dove è Fantascienza e dove inizia il documentario. Il film è una forma d'arte che ha il diritto di decidere cosa sia documentario o Fantascienza eccetera. Io cerco sempre di combinare le due cose in questa espressione artistica e di fare una, in questo caso di fare una storia che sia tra la vita e l'allucinazione. Ecco, nel film la protagonista decide di vendere la sua immagine, quindi in quanto attrice decide di continuare a essere sempre visibile. Però oggi come oggi con internet tutte le persone vogliono continuare a essere visibili, quindi è un po' come se tutti avessero un po' venduto i propri diritti a qualcun altro. Questo è molto vero, credo, ma ancora, credo che l'internet... Sì, questo è molto vero, però anzi direi che internet, Facebook, Twitter sono soltanto un modo per cercare appunto di avere sempre più amici, sempre più fans, sempre più tweet, ma diciamo che sempre più... ne esistono adesso sempre più modalità per essere visibili, per fare questo. Però l'idea è sempre la stessa, è vero che nel passato magari se hai uno scrittore dovevi in qualche modo lottare per trovare editori eccetera. Adesso tutto ciò è molto più facile, però appunto rimane sì questo fatto che tutti vogliono essere più visibili. Il creare controllo e consenso fra le persone, anche attraverso le droghe, c'è una metafora politica anche in questo? Sì, beh, quando il libro è stato scritto, le droghe, infatti, l'uso delle droghe erano appunto una metafora per il controllo, il potere esercitato da un regime, una metafora che veniva usata 40 anni fa, in una situazione di 40 anni fa. Adesso siamo certamente molto più liberi di allora, forse diciamo che viviamo in una schiavitù diversa che è quella del mondo capitalista. Certamente stiamo meglio, però dobbiamo pensare che se viviamo così le tante opportunità che ci offre tecnologia c'è sempre anche il lato opposto. Il festival Trasparenza in Tascani, diretto da Deborah Young, ospita anche un altro personaggio internazionale. Un fotografo si tratta di Yosef Nabil, che ha firmato le copertine di importanti magazine, conosciuti a livello internazionale e che ha immortalato il volto di attori come Fanny Ardain e Catherine Deneuve e che ha recentemente fatto una mostra a Dubai. Qui a Firenze, al Trasparenza in Tascani, presenta il suo corto You Never Left. Sentiamo adesso che cosa ha detto Yosef Nabil e anche il direttore del festival Deborah Young. Vorrei per prima cosa sapere a chi si ispira nel suo lavoro di fotografo. Quando ho iniziato diversi anni fa la mia ispirazione era il cinema. Il cinema è molto importante, in Egitto e lo è tuttora per me. Quindi quella è stata la mia prima ispirazione e continuo ad esserlo anche adesso. Lui si sente un po' un interprete delle tante rivolte del mondo arabo in questo momento giovanile e non solo? Penso che sia una cosa molto importante. Non sono d'accordo esattamente su tutto, però penso che sia un passaggio obbligato per arrivare a un'altra meta, andare oltre diciamo. quindi sono molto importante proprio come evento. Io sono 11 anni che non vivo in Egitto, quindi non vi ho partecipato, però in qualche modo partecipo a questo attraverso, nel mio modo, infatti sono lavorando a un progetto. Nel corto quanto c'è di questo lavoro di fotografia e quanto invece c'è sperimentazione? Devo dire che prima di fare questo corto, questo film, ho lavorato per 12 anni come fotografo e il mio tipo di fotografia è appunto sono foto in bianco e nero che poi io ridipingo a mano e quindi volevo che questo film in qualche modo fosse molto vicino all'arte che io esprimo con la fotografia e quindi ho lavorato moltissimo nella post-produzione perché volevo che i colori risultassero proprio come quelli della mia tavolozza, diciamo. Uno israeliano, l'altro egiziano. Ci sono delle assonanze? Veramente, quando abbiamo scelto di dare i due film, The Congress and You Never Left, per inaugurare un festival che spero andrà avanti molto, non abbiamo pensato alle assonanze, le... ma ci sono, ci sono moltissimo. Tutti i due registi, che sono uomini, parlano dell'immagine della donna. Nel film di Youssef Nabil, il più famoso fotografo del mondo arabo, si parla di Fanny Ardant che interpreta la madre, un'immagine iconica, un icon che si vede anche nella pietà di Michelangelo quando Fanny Ardant tiene Tahar Rahim fra le braccia. È una cosa che richiama moltissimo le sue fotografie di donne celebri come un'immagine. Mentre nel film The Congress Ari Folman sta scannerizzando un'attrice che si chiama proprio Robin Wright, come si chiama la donna, perché lei pure è un icon, un tipo di simbolo dell'attrice e perché sono tutte e due donne, mi chiedo, interessante.